Le regole vanno rispettate per tutti e questo è il primo indice di democrazia. Non dobbiamo stravolgere la democrazia e la legge. Noi sull'egittimo impedimento, qualora passasse qualsiasi tipo di legittimo impedimento, come è stato anche per altri procedimenti di questo governo, inizieremo una fase referendaria. È come al solito una mossa intempestiva. In questo momento si stanno giocando delle regole che non sono le regole della democrazia. Continuiamo appunto a leggere le carte e a dichiarare dopo aver letto le carte. Quando sentiremo appunto buzza di bruciato, come la sentiamo sempre quando esce un atto da questo governo, noi dichiareremo che cosa abbiamo letto e quali imbrogli hanno voluto mettere all'interno. Il DDL Mille Proroghe è passato alla Camera, ora va al Senato, però per quanto riguarda l'editoria c'è stata una clamorosa esclusione delle radio e televisioni private. Cosa ne pensa? Beh, come sempre appunto cercano di imbrogliare le carte. Noi anche al Senato appunto chiederemo con emendamenti appunto di cambiare e di riportare alla legalità tutto quello che è uscito fuori dalla Camera di illegale. Ce l'abbiamo anche con alcune altre categorie, per esempio i nolleggiatori con conducente appunto delle auto. Anche loro appunto avranno attraverso i tali dei valori un stravolgimento di quello che è uscito dalla Camera. Si vogliono penalizzare degli imprenditori, ecco perciò editoria, televisioni e auto noleggiatori. Noi saremo appunto attenti per rispettare e far rispettare la legalità e farla tornare, perché questo governo non vuole far tornare la legalità. Quindi ripristinare il diritto soggettivo anche per le testate più piccole che già si stanno mobilitando. Tutte le testate appunto noi dobbiamo dare libertà alla informazione. È quello che loro non vogliono più permettere. C'è una legge bavaglio che incombe al Senato, la discuteranno dopo le regionali. Ecco noi dobbiamo parlarne prima delle regionali, per poi dopo affrontare una grande battaglia all'interno del Senato su questa legge vergogna.